Allora Alessandro, una volta si diceva un cavallo di ritorno, questa volta invece un protagonista di ritorno. Come hai trovato il gruppo, il tuo compagno, come sta vivendo queste prime giornate di lavoro? Sicuramente sono tornato in un gruppo di amici, ci conosciamo quasi tutti, sappiamo che siamo bene insieme, stiamo lavorando bene col mister nuovo, è due settimane che siamo qua in Liguria e adesso continueremo a lavorare per arrivare al meglio all'agosto. Quanto mi sembra che anche fisicamente siate tosti, anche tu che mi sei giocato 90 minuti interi oggi, avevi la partita di 48 ore fa nel legame, però ho visto fuori fino alla fine abbastanza tranquillamente. Beh sì, forse un po' siamo calati nel secondo tempo, però penso che abbiamo gestito bene la partita, stiamo lavorando abbastanza, quindi penso che un po' di calo sia normale. L'assetto tattico nuovo mi sembra lo stiate anche quello di Gerendo abbastanza bene. Beh sì, il mister ci sta proponendo le sue idee, noi cerchiamo di metterle in atto in campo e penso che lavorando di giorno in giorno si possa sempre migliorare.